Manca il crisma dell'ufficialità, ma presto il brindisi potrà contare su due tastelli in più. Si tratta di Cristian Costa, esterno-destro, classe 2002, oltre ad Andrea Cavalli, portiere classe 1999, attualmente svincolato. Intanto il direttore sportivo Nicola Dionisio continua a lavorare per portare in bianco-azzurro almeno una punta. Sta arrivando un 2002 che gioca a destra, basso, perché sto facendo le coppie anche degli andare praticamente. In viceromano sostanzialmente? Sì, oppure non vince, ma ci stanno alla parte e ci stiamo perdonando, perché comunque bisogna bilanciare la squadra, come ho sempre detto. Comunque vi anticipo che è un 2002. Stiamo decidendo anche questa settimana, una settimana si sta allenando Cavalli con noi, che ci sta dimostrando che è un portiere che vale. È un over, anche se è un 99, è un over, però molto bravo. Quindi vediamo se riusciamo a concludere con lui e se non sarà con lui sicuramente arriverà un portiere over, sicuramente.